Oggi parliamo di... Cos'è per il dono? Per me il dono può essere un sorriso, una persona triste, oppure un raggio di soli e dover avere uno spedio mai. Cos'è per il dono? Per me la cosa comporta il dono e il mio amore. Il dono è quello che molti cercano e che non hanno, mentre altri lo hanno e non lo apprezzano. Cos'è per il dono? Il dono più bello della vita anche se è perso una partita. Cos'è per il dono? Cos'è per il dono? Cos'è per il dono? Grazie a tutti